Quest'anno Babbo Natale ha un grosso problema. Sono finito. Allo stato attuale siamo indietro su tutti i fronti, dai trenini alle biciclette. Solo un uomo potrà salvarlo. Quagliù io ti trasformerò da Babbo Natale a Babbo Cazzimma. La magia del Natale ci sarà sempre. Un miliardo di follower. Pensa come i rosi gambe fanno. Bro! Chi ha incastrato Babbo Natale dal 16 dicembre al cinema? Buon appetito. Grazie.